Il governo colombiano annuncia la sospensione delle operazioni militari nel dipartimento di Arauca, nell'est del paese. È quella la zona a cui si riferiscono le coordinate fornite dalle FARC per la liberazione di due dei militari rapiti la scorsa settimana. Tra di loro il generale Ruben Dario e l'avvocato Gloria Urego, per i quali Bogotà attende ancora i dati necessari.